allora ragazzi iniziamo a identificare quelli che sono appunto gli archetipi di riferimento abbiamo detto sono 11 archetipi e ve li riassumo prima di cominciare abbiamo il numero 1 che è l'archetipo del guerriero il numero 2 che l'archetipo del fanciullo il numero 3 che l'archetipo del giullare il numero 4 che l'archetipo del costruttore il numero 5 che l'archetipo l'archetipo del cercatore il numero 6 che l'archetipo dell'angelo custode il numero 7 che è l'archetipo del saggio il numero 8 che è l'archetipo del sovrano, il numero 9 che è l'archetipo del liberatore e poi andiamo ai numeri maestri, quindi il numero 11 che è l'archetipo del genio e il numero 22 che è l'archetipo del creatore. Ma iniziamo ad analizzarli singolarmente. Allora, partiamo dall'archetipo del guerriero, quindi il numero 1 e qui già vi dico una cosa importante, nel senso che se voi siete nati il primo di gennaio per esempio o non so il 19 di dicembre e quindi 1 più 9 10 e quindi 1 più 0 1, quindi qualsiasi somma del vostro giorno di nascita dia in definitiva 1, questo rappresenta per voi il numero psichico, ma questo poi lo andremo ad analizzare, però giusto per farvi un attimino prendere dimestichezza con questi archetipi. L'archetipo del guerriero, beh il guerriero, vi ho messo subito una slide di riferimento dove potete vedere varie informazioni, c'è ovviamente un'immagine simbolica del guerriero, anche molto bella direi, sì perché poi alla fine tutti questi archetipi rappresentano il viaggio dell'eroe, in questo caso è quest'eroe che combatte con il drago e il guerriero incarna in maniera perfetta questo tipo di archetipo. Beh l'archetipo del guerriero rappresenta la forza, l'azione, il coraggio, ma è anche un archetipo ricco di tantissima autostima e diciamo nel suo aspetto più di ombra rappresenta anche la ribellione. Chi è influenzato maggiormente da questo archetipo diciamo che ha un bisogno di libertà, di indipendenza e soprattutto ha questo istinto quasi nato a dover conquistare, a dover diciamo avere sempre qualcosa di nuovo da poter costruire, da conquistare, da fare perché è appunto un guerriero per cui la sua natura, la sua indole più profonda è proprio quello di combattere, combattere per affermare se stesso, combattere per sconfiggere dei nemici oppure combattere per un ideale più grande. Diciamo che il numero uno di per sé, quindi chi è influenzato maggiormente da questo archetipo può anche risultare un soggetto piuttosto solitario, quindi solitario non esclusivamente perché magari è timido, assolutamente no, perché comunque l'archetipo del guerriero ha molta audacia, ha molta iniziativa, quindi solitamente non è un soggetto timido, ma può essere un soggetto solitario perché magari conta troppo su se stesso e quindi ha difficoltà anche a chiedere l'aiuto del prossimo, ad appoggiarsi a qualcun altro e quindi solitario in questi termini. Difficilmente il numero uno ha l'abilità di entrare in una dinamica di squadra perché è un pochino accentratore, è un pochino anche se vogliamo ecocentri col numero uno, quindi cerca di fare un po' tutto da solo. Per cui ecco, se magari già nel vostro giorno di nascita avete identificato questo archetipo potete anche verificare personalmente se quello che vi stiamo dicendo è effettivamente veritiero oppure no. Poi c'è da fare una differenza tra numeri pari e numeri dispari e quindi in questa sede dove siamo proprio all'inizio di questo corso è opportuno fare questa distinzione. Tutti i numeri dispari dovremmo considerarli come dei numeri con energia maschile, attiva, che crea, che avanza, che porta al cambiamento, che porta a qualcosa di nuovo e quindi tutti i numeri dispari hanno in effetti un'energia creativa che spinge verso il nuovo. I numeri pari invece hanno un'energia più femminile, più pacifica, più stabile, quindi preferiscono in qualche modo creare l'armonia in base a quello che già hanno, che già stanno sperimentando e quindi sono solitamente dei numeri volti più all'aspetto sentimentale, agli affetti, ai rapporti rispetto ovviamente ai numeri dispari con qualche eccezione come magari poi andremo a vedere nello specifico. Diciamo che il numero uno, quindi questo archetipo del guerriero, per esempio, possiamo identificarlo anche in vari aspetti nella vita. Senz'altro dove dà il meglio di sé è nel lavoro, soprattutto nell'era moderna, no? E soprattutto in un mondo competitivo come quello che ci apprestiamo a vivere anche noi, dove ciò che conta il risultato. Ecco, il guerriero ha bisogno di dimostrare il proprio valore, quindi sul lavoro solitamente è sempre un numero uno, non a caso è il numero uno e quindi ha bisogno di provare il suo valore, ha bisogno di conquistare, ha bisogno di affermarsi. C'è da dire che essendo estremamente indipendente, ricercando costantemente la libertà, non è adatto a fare dei lavori subordinati, quindi non è per esempio adatto a fare l'impiegato. Piuttosto potrebbe, diciamo, accettare un ruolo all'interno di un'azienda, ma un ruolo di leader, un ruolo di capo, pur sapendo che comunque questo archetipo, come abbiamo visto, non è proprio il massimo nella gestione del personale perché non è bravo nella gestione, nel lavoro di squadra, ok? E quindi quali lavori possono in qualche modo essere adatti al guerriero? Beh, senza altro dei lavori come libero professionista, qualunque sia il settore che sceglie, può essere, non so, l'avvocato, il medico, non so, l'artista, il cantante e così via, comunque il libero professionista. Ma il lavoro di per sé deve essere un lavoro che gli dia costantemente degli stimoli, che non lo faccia adagiare negli allori perché altrimenti il guerriero si annoia, non ha più, diciamo, delle battaglie da affrontare e quindi si annoia. Nella sfera, invece, sentimentale, beh, ovviamente per sua natura il guerriero ha bisogno di conquistare, quindi senz'altro non predilige, non ama ecco le cose semplici, le cose facili, se c'è qualcuno che gli si butta ai suoi piedi cerca altro, no? Perché è troppo facile, è troppo semplice per lui, per cui ha bisogno invece di sentirsi stimolato e quindi se magari, io ho magari un consiglio così spassionato, siete interessati o interessate a una persona che ha un numero uno particolarmente forte, questo lo vedremo, come capirlo anche attraverso lo studio della data di nascita e lo studio del nome, che ripeto faremo nel secondo livello, beh, già da lì capiamo come comportarci con una tipologia prettamente guerriera, no? Quindi senz'altro non gli faremo, diciamo, le cose troppo facili, cercheremo di dargli gli stimoli che nella sua ottica possono essere visti come una conquista, come una sfida, come una battaglia da vincere. C'è da dire che però il guerriero è anche un po' freddo da un punto di vista sentimentale, per cui può apparire a tutti gli effetti un po' anaffettivo. Magari non lo è, attenzione, però questo è l'immagine che lui dà. Essendo prettamente concentrato sulla propria carriera, sulla propria realizzazione, può in qualche modo dare l'idea di essere poco interessato alla vita affettiva e ai sentimenti in generale. Detto questo, c'è da dire che comunque il guerriero è comunque solitamente un soggetto molto affascinante, molto carismatico, molto magnetico e soprattutto è anche un amante particolarmente focoso. Quindi diciamo che chi si innamora di queste tipologie ricerca proprio questo, altrimenti ricercheresti un'altra tipologia, no? Ovviamente tutte queste caratteristiche dei numeri che stai elencando sono in maniera più sintetica all'interno della dispensa del corso, no? Che potete, se non l'avete già fatto, scaricare e troverete numero per numero tutte le descrizioni. Bravissimo, sì perché appunto nella dispensa trovate anche, diciamo, la descrizione dell'archetipo in generale che è quella che facciamo noi. E poi troverete anche i vari aspetti dell'archetipo, quindi se questo archetipo, per esempio il guerriero, compare come vostro numero psichico oppure come vostro numero dei talenti oppure come vostro numero ombra oppure come vostro numero del destino, ovviamente ci sono delle differenze anche se poi alla fine l'essenza dell'archetipo è quella. Quindi basta semplicemente traslare questa energia nei vari settori, che sia la psiche, il destino, il talento, l'ombra e così via. Grazie. Grazie. Grazie.